Mi chiamo Marco Brambilla, lavoro in Epicentro, è una società che si occupa di applicazioni internet e tecnologia correlata da 5-6 anni a questa parte e quella che presento oggi è un'idea, coerentemente con lo spirito dell'Elevator Pitch, ho solo l'idea, non ho slide, volevo presentarvi l'idea in questi tre minuti che riguarda un problema concreto mio, che se riesco a risolvere sono anche contento. Il mio problema è che sono andato in vacanza, non è questo il problema, tornato dalla vacanza ho questa montagna di foto, avendo due bambini piccoli ho giga di foto che abbiamo fatto e adesso dovrò fare il giro delle sette chiese a mostrare tutte queste 600 foto a tutti i parenti eccetera eccetera. In realtà voi mi dite tecnologie per condividere foto ce ne sono, ne abbiamo una marea. Quello che però non riesco a fare è avere la stessa esperienza, la stessa facilità di condivisione con le persone che non sono online ovviamente, quindi mio padre, mia madre, gli zii. Il problema sì potrebbe essere banale però potrebbe anche essere affrontato pensando di non guardare in avanti all'ultima tecnologia disponibile correndo dietro all'innovazione ma cercare di girarsi indietro verso chi adotta in ritardo queste tecnologie però è lì dove secondo me si può guadagnare perché si va a coprire un gap. Cosa vogliamo fare? Vogliamo rendere semplice la produzione di questi contenuti quindi la raccolta di immagini, testi, condensarle in uno stream che diventa il fra virgolette feed familiare ma forse possiamo chiamarlo il giornale della propria famiglia o famiglia allargata. Detto così non è molto eccitante ma le persone che come me hanno figli e vogliono condividere queste fotografie troveranno le obiezioni tipiche di quando si vanno a condividere fai le foto o filmati dove li metto, li metto su youtube, li vedono tutti, non ho riservatezza no, io vorrei una piattaforma chiusa entro la quale condividere queste foto, questi filmati, questi testi e dall'altra parte la fruizione deve essere altrettanto semplice. Se devono accendere il pc già abbiamo perso, non iniziamo neanche. Perché? Chi è che spiega a mia madre come si fa a andare su Picasa, youtube o qualcosa del genere? Quindi l'idea si compone di una piattaforma di elaborazione di contenuti che vengono prodotti, ridimensionamento di immagini, adattamento dei testi, riformattazione, aggregazione e download in dispositivi evoluti, dove per dispositivo evoluto intendo qualcosa che dia un'esperienza d'uso tipo l'iPhone, facile da maneggiare senza tasti né frivolezze. Da qui la persona che lo utilizza vede incrementato man mano che le cose accadono, man mano che il tempo passa, man mano che i dati e le informazioni vengono raccolte, vede aggiornarsi questo flusso. Posso decidere anche magari di stamparlo piuttosto che mostrarlo su un dispositivo, posso decidere, oggi ci sono tanti, è possibile farlo, ma ci sono tanti piccoli passaggi, a me piacerebbe un flusso automatico del quale io non debba più preoccuparmi. Ostacoli, ovviamente c'è questa piattaforma che dicevo da costruire, c'è da individuare il dispositivo che le prime verifiche che abbiamo fatto non c'è ancora un tablet abbastanza maneggevole, amichevole da utilizzare di questo tipo, ma arriverà perché il trend è quello secondo noi. Dove vediamo un vantaggio per l'investitore? Ovviamente qui c'è da vendere il servizio, è un servizio tipicamente da vendere a canone con magari anche il noleggio del dispositivo incluso nel canone, nel fee dell'abbonamento. Concludendo, se avete mai avuto occasione di condividere informazioni con persone che non sono online, non sono in formato digitale, avrete notato una certa resistenza da parte loro, la nostra idea è che quella resistenza sia giustificata e che dobbiamo essere noi ad andare in quella direzione. Grazie. Domande? Domande? Prego. Come device di proiezione, giustamente il cellulare o comunque un terminale mobile sta diventando effettivamente così diffuso e conosciuto e utilizzato da tutti, anche tipo da mia mamma, per cui effettivamente potrebbe essere il device di atterraggio, ma un device più tradizionale tipo una tv? Allora, sì, la mia paura è che, come dicevo prima, se questa cosa ha due componenti già comincia a non funzionare più, cioè se io ho la tv e uno scatolotto da attaccarci, già andiamo in una... deve essere qualcosa che io ho visto mia moglie, la cito sempre, povera e fischia nelle orecchie. Adesso ho poco tempo, sta seguendo due bimbi piccoli, quindi la posta elettronica la controllavo una volta ogni due settimane. Da quando le ho portato a casa un iPod Touch, tutti i giorni controlla la posta una o due volte al giorno, perché è immediato, lo accende, funziona, vede la posta, spegne, via. A 30 secondi fa quello. Se io devo accendere la televisione, trovare il canale, sintonizzare, fare... ovviamente un dispositivo un po' smart potrebbe andare in quella direzione, ma non sono così confidente, però la strada è quella senz'altro. Ok, grazie. Prego.